Il trattamento con concentrati di fattore nono può ripristinare un'emostasi appropriata nei pazienti affetti da emofilia B. Fin dai primi studi effettuati con concentrati di fattore nono è emerso che la farmacocinetica di questa proteina non è lineare ma è meglio rappresentata da un modello multicompartimentale. Il volume di distribuzione apparente del fattore nono, diversamente da quanto avviene per il fattore ottavo, risulta essere circa quattro volte maggiore del volume plasmatico stimato e simile al compartimento plasmatico più il volume del fluido extracellulare. Globalmente i risultati degli studi effettuati suggeriscono che il fattore nono segua una cinetica complessa, influenzata da legame a siti accettori o compartimentalizzazione in spazi extravascolari con possibili implicazioni farmacodinamiche. La diffusione reversibile allo spazio extravascolare comporta un equilibrio dinamico del farmaco negli spazi intra ed extravascolare che può contribuire a spiegare la prolungata emivita del fattore nono rispetto al fattore ottavo e possibili discrepanze tra concentrazione plasmatica ed efficacia terapeutica.